Ciao, creatura. Io sono Eka Desplendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kudai ASMR. Una creatura mi ha chiesto di fare la lettura del catalogo dell'idl, del volantino più che del catalogo e quindi, visto che è da tanto che non ricevo richieste di video, io vi voglio troppo bene, quindi andiamo a farla. Visto che ci tenevo particolarmente, allora ho deciso di realizzare questo video. Spero di caricarla in tempo. Le offerte sono valide dal 12.07 al 18.07. Allora, le mie unghie fanno un po' schifo, ma pazienza. Ci sono questi sconti, cioè lo sconto plus con il coupon. Puoi acquistare il sugo allo scoglio e frutti di mare. Adesso non so se lo sai, ma il lead ha creato un'app dove puoi trovare coupon e ogni volta che fai la spesa vinci, di una specie di gratte vinci, dove c'è sempre in premio qualcosa come sconti oppure prodotti che ti ricevi gratis. Cioè che puoi prendere gratis nella spesa successiva. Allora, ho visto delle cose interessanti, delle novità, anche un gelato particolare. Adesso nemmeno vederlo insieme. Qua ci sarà la settimana greca. Andare a vedere solo le cose che mi hanno attratto di più, come dire, wow, questo è nuovo. E c'è molta carne in offerta. Qui c'è il nuovo proprio, scopri le novità. Scusa, magari la quadratura è un po' storta, ma vabbè, pazienza. Come al solito sono tutta storta, vabbè. Scopri le novità del nostro assortimento prodotti sempre nuovi e innovativi che ti ispireranno in cucina. Una panoramica delle nostre ultime novità è disponibile periodicamente sul nostro sito web www.little.it Allora, come novità qua troviamo pizza 4 formaggi con lievito madre, con provolone piccante, scamosa, fumicata e damer e corconzola top a 2,49 euro. Pizza le verdure con lievito madre, con spinaci, pomodorini, peperoni e cipolla rossa a 2,49 euro. La birra Moretti la a 0,99 euro, che in parti fanno pagare 3 euro, per dire no. Poi mozzarella light, solo latte italiano a 0,69 euro. L'insalata di riso venere con soia e damame e verdure. I damame sono quella specie di fagioloni verdi. Orientali, 1,79 euro. Poi c'è questa, ci sono queste briochine, no? Come si chiamano, non le chiamano le pastine? Non so voi come le chiamate. Le merendine, ecco, sì, penso che in italiano sia merendine. che è una rivisitazione delle merendine pandistelle, presumo perché vedo che hanno gli stessi colori e le stelline. Qui si chiamano però di marca nastricce e sono gli amori sogno, pandistelle, amori sogno, soffice pandispagna farcito al latte con gocce di cioccolato. 1,49 euro. Poi qui c'è una torta gelato, gelato al cacao e al gusto di vaniglia con pandispagna e pigneri pieni. E poi, insomma, fa voglia, devo dire, poi con questo caldo fanno voglia. A 4,99 euro. Sono 750 grammi alla confezione. Poi, gelati variegati, gusto amarina, pistacchio o fragola. A 1,99 euro. E poi questi bonbon di gelato. Bonbon, 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 gusto vaniglia, barbon o mandorla. Vaniglia, barbon, 2,49 euro. Poi, basta, sono finite le novità. In realtà no, perché di nuovo c'è questo gelato che è gelato un gusto particolare che onestamente, dico, parlo per me, non avevo ancora visto nei supermercati. Gelato alla vaniglia e figo con sciroppo e pezzetti di figo canditi. Io il gelato alla figo non l'avevo visto nei supermercati. Poi, se esisteva già, chiedo scusa, non lo sapevo, a 2,49 euro. Questi tramezzini mi fanno voglia, anche se i carciofi non mi piacciono. Avete mai assaggiato i tramezzini del Lidl? Io no, quindi non so dire se mi piacciono, se sono buoni. Però il packaging è molto carino perché dà l'idea di quel pranzo al sacco già preparato, no? Con questo sacchettino così di carta. Mi piace molto che ha anche la finestrella per farti spirciare il gusto del tramezzino. E c'è il braga, i carciofi, o tonno, pomodorini e olive. Prenderei tonno, pomodorini e olive. Credo che sia questo, sì, perché è pomodorini. Di queste offerte qua, onestamente, anche se non è una novità, mi fanno voglia questi medaglioni. Questi medaglioni con basilico genovese e pinoli a 1,19 euro. Poi per il resto non mi ispira a nient'altro. Sono le classiche insalate di patate piene di maionese. Queste qui. Ma anche no. Anche no, anche no. Poi, mi piace la maionese, ma non mi piacciono tanto quei miscogli di cose. Un po' pesantucce per il mio stomaco. Magari potrei assaggiarne un po', ma non mangiarlo proprio come cena. Perché ho visto persone che la mangiano come cena. Poi, qui hanno messo dell'ario mare. Dell'ario mare. Le insalatissime. Delizia di mais e tonno. O messicana e tonno. Oppure qua, 1,99 euro. Insalata di pollo. Agrodolice, piccante o ortolana. 1,79 euro della Simetal. Non mi piacciono queste cose. Perché quanto è più buono è meglio prendere una scatoletta di tonno e poi ficcarci dentro tu le tue cose belle e fresche. Piuttosto che queste che sono piene di conservanti. Quindi, reumare, non denunciarmi per questa cosa. Però, ovviamente, se vuoi tutto subito, ti compri queste. Quindi, hai visto? Cioè, un posto, diciamo, last minute dell'ultimo salvagina. Ecco, diciamo così. Quindi, ecco, mi sono salvata. Poi, qua ci sono i sottopressi. Vediamo. Non mi interessa nulla. C'è un concorso della Coca-Cola, ma non la bevo, quindi non mi interessa. Ah, c'è questo gelato un gusto. Non so se lo vedi, non lo stai vedendo. Eccolo qui. Gelato, cheesecake, ai mirtilli, carta d'orra, a 2,19 euro. Fa voglia, eh. Devo dire che come gusto mi fa molta gula. Mi fa molta voglia. E poi, vabbè, qui uno semplice dilettante. Gelato, affogato, al cioccolato. Un grande classico, ma anche, no? Cioè, mi piace provare gusti nuovi. Poi, qui speciale caffè. Non ci interessa. Cioè, perlomeno a me non interessa. Poi, vediamo un po'. Non, eh, Laboretti, non sa da niente. Adesso però, anche denunciata da quelli. Poi, Bevante, zero. Allora, non sono male queste, le ho assaggiate. Sono zero zucchero. Però, io preferisco la Schweppes. Mi piace di più la limonata Schweppes. E' proprio, sa proprio da limone aspro. E mi piace tantissimo. Poi, qua abbiamo un benessere bellesto. Sono tutti assorbenti. C'è il nostro amato e fidato multinsetto, insetto repellente. Ho scritto davvero multinsetto, insetto repellente. Sembra... Muscioli, lingua ASMR. Multinsetto, insetto repellente. Un mantra. Multinsetto, insetto repellente. Multinsetto, insetto repellente. Molite, insette, insette, repellente Sembra un'altra Non lo so Stregonesco per scacciare Le senza aria Poi Vi consiglio di prendere La Moretti e non la Moretti La Moretti tra i lupoli Questa l'ho assaggiata del Lidl Non so da niente Non ha gusto Dopo fate quello che vi pare Ah, ci sono le offerte della settimana Con i coupon Da attivare nell'app Quindi questi sono validi Solo per chi ha l'app E la scansiona Quando è in cassa Non so, penso che tutti ormai l'abbiano provato Almeno una volta Credo E c'è il 40% di sconto Allora, nel mentre che il vicino fa casino Io mi sto mangiando una bella pesca fresca Pesca fresca L'ho presa al Lidl, tra l'altro Che era un'offerta In offerta c'è quest'ufa Che ormai è fuori stagione Cioè Boh, non so da dove arrivi Black magic anche si chiama È buona questa Però È scritto coltivata in Italia Ma se sta ancora maturando qua Quella è quella dell'anno scorso Quindi L'avranno tenuta nei frighi Non lo so Come funzioni Perché comunque L'uva da noi Sta ancora crescendo Quindi Non è maturata per nulla Matura di solito in settembre Quindi Quella dell'anno scorso Poi Mirtilli A meno che al sud Non sia già maturata Mirtilli Coltivati in Italia Wow Ecco Non so Comunque il prezzo è buono Perché di solito Mirtilli Urti di bosco Costano tantissimo Poi Cos'altro c'è qui Che fa voglia Nient'altro Magari quei filetti di salmone Ma qua un po' Mi fanno voglia Onestamente Ma essendo Attualmente in preciclo Mi fa voglia tutto Benissimo A posto così Passiamo All'antichi Sapori in stile greco Sapori dal mondo C'è la settimana greca Della settimana greca Ci sono alcune cose Che Mi fanno Gula Allora Io non so se Questi patè Ci sono sempre Durante la settimana Greca Perché io Non me li ricordo Però c'è il patè di olive Queste che sono le mie preferite Quelle Marrone scuro Sì E oppure il patè di olive verdi Mi prenderò ovviamente Il patè di olive Queste qua Che sono le mie preferite Se si pronuncia così A 99 centesimi Da mettere sul crostino di pane Sì Che buono Ho anche tipo nei toast Spalmato su un lato del pane Buonissimo Immagino già Non lo so Non li ho mai assaggiato Questo patè Io Essendo amante In modo Pazzesco Di queste olive Sicuramente mi piacerà Non mi piacerebbe Ecco E Poi Questi formaggi da grigliare Mi fanno molta voglia Ho preso dei formaggi da grigliare Da Aldi Buonissimi Sono fatti Tondi tipo Hamburger Buonissimi quelli Qui non ci sono Lì ci sono fissi Sempre Nel banco frigo Ho preso Il kuda E Veramente Te lo consiglio Poi Queste foglie di vita Vite mi fanno voglia Ma Non lo so Mi ripieni di riso Potrei farmela a casa Che Ho la La pianta Poi Mi fanno voglia Queste polpette Fammi sapere Nei commenti Se tu le assaggiate Se sono buone Polpette Di carne Suina 1,99 euro Ripiene Con olive E feta 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 Sì Feta top O Di salsa Base Di cetrioli Yogurt Che è la salsa Zazzichi Zazzichi Che non mi piace Perché non mi piacciono i cetrioli Mi prenderei quelli con olive e feta C'è il vicino che si sta soffiando il naso In modo Iper mega Rumoroso E fastidioso Non so Vabbè Ci saranno dettagli Poi Questi copetti di formaggio in Samoa Eh Non mi fanno molta voglia Magari sono buoni Però Vabbè Poi Le mie dorate olive Che compro sempre Ogni volta che Vado al hotel Ci sono Perché restano Li piacciono solo a me Non lo so Ma io mi faccio tipo Mi prendo 3-4 Vasetti Poi mi restano Mi detengo per tutto l'anno Per quanto non c'è Che Quasi ogni giorno Ne mangio tipo Un po' Sì Ho fatto la mania Ho fatto la mania Un po' Anche per le spezie Infatti ne ho tantissime a casa Queste mi mancano Però Mi pare di aver letto Prendo sempre quelle Perché a volte Fanno I furbi Diciamo E ci mettono Lo zucchero All'interno E quindi Spesso Non le compro Perché Andate sempre Mi raccomando A leggere Gli ingredienti Di queste Miscele qua E quindi Andrò Se le trovo Le leggerò Dietro Se c'è qualche Spezia Che mi ispira Senza Lo zucchero E andrò A comprarle Anche in quelle Messicane In tante Mettono Lo zucchero Purtroppo Vabbè Niente qua Non mi ispira Nient'altro Allora Quei fagottini Di pasta Spoglia Ripieni Adesso Te li mostro Questi qua Sono buonissimi Quelli Ripieni Agli spinaci Formaggio Sono tipo Buonissimi Li ho mangiati Sono surgelati Vanno solo Cotti in forno E Veramente Ripieno Spettacolaris Direbbe qualcuno Su youtube Quindi Se ti ispirano Duro 99 Sono molto buoni C'è Un chilo Ce ne sono tanti Dentro Mia madre L'aveva acquistati Per una festa In famiglia E Quindi È una bella Quantità Grande E Sono veramente Buoni Poi Vediamo Qui che altro Osservare Più nello specifico Direi Nient'altro Ma questo Gelato È abbastanza Particolare E spizioso Potrei dire Gelato Con yogurt Greco Sciroppo Di miele E noci Di pecan Caramellate Sembra molto dolce Svizioso E Basta Poi 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 Qua Abbiamo Qua Per Salute Benessere Scegli Lo sport Ci sono Questi Indumenti Sportivi Poi c'è 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 Delle cose Per l'auto Poi Cos'è Per Per Stirare Un po' Da Una Scarpiera Le piante C'è Il peperoncino Piccante Assordito Che ve i colori Non stai vedendo Nulla Eccolo qua Il Lidl Ha sempre Delle Belle E Abbastanza Economiche A parer mio Quindi Mi piace Anche Per Quello Poi Qua Vabbè Scusami Volevo Solo Dire Lidl Complimenti Per i Modelli Nuovi Che hai Usato Cioè Io Approvo Adesso Ti mostro Poi Fammi Sapere Eh Voglio dire No Cioè Tanta Roba Guarda Qui Volevo Solo Far notare I modelli Nuovi Dell Lidl Io Approvo Tu Creatura Approvi Io Approvo Sto scherzando Ovviamente E Poi Basta Questi Accessori Vabbè Accessori Poi qua C'è Un look Fresco Per l'estate Con questo Dis Ecco Togliamo Meno Di questi Modelli E Più Beh Allora Volevo Solo far notare Questa Che è venuta In mente Adesso No Questo qua Con sta faccia Da birra Che deve Fare Il look C'è scritto Un look Fresco Per l'estate Ma Non intende Fresco In senso Di Cool Intende Fresco Nel senso Che Bracchette Corte C'è una Musca Bracchette Corte Magliettina T-shirt Polo Anzi Ci sono Delle T-shirt Ma ci sono Delle Polo No Quindi Questa faccia È un po' Da birra No Invece Quando si parla Di lavoro No Di lavoro Di Salopetta Da lavoro Per uomo T-shirt Da uomo Che me la mette Solo bianca e nera Quindi Molto seria Scarpe Antinfortunistiche Da uomo Mi mette Il barbutto Con i tatuaggi Cioè Il figone Serio Che lavora L'uomo Rude Questa cosa Mi fa troppo ridere Non lo so Un po' Stereo Tipo Mi fa ridere Io metterei Anche Il barbutto Con la maglia Fresh Cioè Scusa Fresche Il look Fresco Per l'estate Effettivamente Comunque La barba Non mi dà L'idea Di un Fresco Effettivamente È solo Cool Poi dopo No Sai che io devo Sempre farti Sorridere Oltre che Rilassarti Poi Qua abbiamo Di vestiti Per bambini E Anche Degli Spazzolini Da tinti Di spirit Che Non mi è piaciuto Quel cartone E quindi Passiamo Oltre Il pasto È finito E qua Sta in offerta L'uva E Però È il Super Weekend Dal 16 Al 18 No Sì Sì Ok Ma tu sei Team Limone O Team Pesca Qua del tè Io sono Team Limone Attenzione Spero che Questo video Ti abbia fatto Rilassare Ti abbia piaciuto Ci vediamo La prossima Settimana Con un nuovo Video Io ti auguro Buonanotte Relax Ciao Creatura Grazie a tutti Grazie.